Good morning a tutti voi! Come vedete sono di nuovo nel mio ambiente. Giovanni, capitolo quinto, versetto 1. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, cecchi, zoppi, paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse, vuoi guarire? Rispose il malato, signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre i fatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella, cammina. A quell'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella, cominciò a camminare. Quel giorno però era di sabato. Dissero dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito, è sabato, non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono, chi è quell'uomo? Ma colui che era stato guarito non lo sapeva. Gesù infatti si era allontanato. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò, riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro, il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo volevano perseguitarlo, perché faceva queste cose di sabato. Non si mettevano a nodare Dio perché Gesù aveva guarito una persona. Ci sono tanti temi in questo brano. Uno è questa cocciutaggine, questa cecità del mondo religioso, dell'esperienza religiosa, che quando vede qualcosa di bene, si lamenta perché non è stata fatta secondo la normativa. Di sabato non puoi portare la tua barella. Guardate che questo capita anche nei nostri ambienti. Magari quando qualcuno fa qualcosa di bene, è però, è però, è però, è però, insomma, andiamo a fare le pulci. È un brutto modo di servire il Vangelo. Capita anche altre volte, no? Quando qualcuno scaccia i demoni e dicono a Gesù, eh, abbiamo visto qualcuno che scacciava i demoni, ma non è dei nostri. Dobbiamo mandargli un fulmine? No. Chiunque fa del bene, fa del bene. Evviva. Un altro tema molto bello è quella domanda che spesso ritorna di fronte a un ammalato, di fronte a una situazione. Gesù non dice, dai, vieni che ti faccio il miracolo. Vuoi guarire? Vuoi guarire? Perché Gesù ci interpella, ci interroga. Insomma, come ho già detto altre volte, senza di noi Dio non fa miracoli. Ma con noi sì. Con il nostro consenso, con la nostra libertà, sì. E questa è una cosa bella, una cosa grande, una cosa grandiosa. E in fondo è il mistero della fede, che è una fiducia che noi possiamo riporre in Dio, come quella di un bimbo, ma dove non ci siamo anche solo noi. Altrimenti saremo dei presuntuosi. E' l'incontro tra Dio e la libertà dell'uomo che genera miracoli. Non solo l'uno, non solo l'altro. Però noi rimaniamo uomini, lui rimane Dio, per carità. Però questa cosa qui è molto, molto interessante. Le cose belle della giornata di ieri, ieri sono tornato da questo lungo viaggio, lungo non in termini tanto di tempo, perché poi siamo stati due giorni e mezzo, insomma. Beh, in questi due giorni e mezzo c'è stata tanta vita, e come spesso succede, quando ti fermi ti accorgi di tutta la vita che c'è stata. E quindi ringrazio ancora Gigi e Davide, che hanno condiviso questo viaggio, così un po' inaspettato. Così potremmo dire è una goccia nell'oceano, ma questa goccia va messa, ecco. Ed è stato un viaggio, credo, simbolico, no? Perché poi, ovviamente, è una goccia in un oceano, ma io credo che l'abbiamo compiuto anche a nome di tanti altri. Oggi mi ha fatto molto piacere, sono andato a portare la comunione a un ammalato, e la prima cosa che mi ha detto, come è andato il viaggio? Io non so come lo sapesse questa persona qui, che è in casa, non può più uscire. Però mi ha dato veramente una bella sensazione che noi fossimo andati lì anche a nome suo. Che bello. Che bello. Quando noi riusciamo a immedesimarci a chi fa qualcosa di bello, nel quale noi crediamo, e che magari noi non abbiamo avuto la possibilità, o non ne abbiamo proprio la possibilità di farlo, ecco. Perché spesso, invece, magari si reagisce in un altro modo, ecco. Evviva! Oggi guardiamoci attorno, ringraziamo per il bene che fa qualcuno, a chiunque, anche a nome nostro, che magari lì per lì non possiamo fare nulla. Buona giornata a tutti voi! Buona giornata a tutti!